Cosa portare con sé nel borsone per andare in barca? Il mio borsone pesava soltanto 5 kg, quindi ho ponderato benissimo quello che dovevo portare con me. Partiamo dal primissimo capo passepartout, che è un cardigan in una tonalità neutra, possibilmente in questo modo diventa semplice abbinarlo con tutti quanti i look molto lungo di lana, perché se ne potrebbe aver bisogno, meglio averlo con sé. Camicia di lino molto morbida e pantaloni di lino, diciamo che i pantaloni di lino non possono mancare. Vestitini lunghi, l'abito lungo rappresenta in sé un look completo, quindi non si ha bisogno di abbinare la camicia con la gonna, piuttosto che il pantalone con la camicia, ma il vestito è un unico look. Pantalone di lino bianco e camicia a righe. E in ultimo, tre costumi da bagno.